Le difficoltà di chi lavora alla terra sono veramente tante e le aziende rischiano veramente di chiudere? Sì, le aziende rischiano di chiudere perché non abbiamo più rientro economico rispetto alle spese che abbiamo e quindi i prodotti che si vendono si vendono a prezzo basso, quindi non riusciamo più a tirare avanti. Fammi un esempio pratico. Il costo per ettaro di spese si aggira intorno a 2.500-3.000 euro, ma non abbiamo 3.000 euro di ritorno economico. Si sopravvive? Si sopravvive, ma male. Sì, più che altro è un giorno importante per farci ascoltare, in quanto il settore agricolo ha diverse problematiche, soprattutto problematiche legate alla calura, al sistema agroambientale, non finanziamenti da parte delle amministrazioni. Dico, è un momento importante, ahimè anche spiacevole, perché oltre ad essere riuniti un sacco di agricoltori, e un sacco di persone che credono nel settore, è un momento di grande sconforto, sia a livello personale, perché noi non abbiamo più il cambio generazionale all'interno delle aziende agricole, ma soprattutto abbiamo un momento di sconforto che noi, attraverso la Federa Agri, cerchiamo di rappresentare e cerchiamo, insomma, in qualche modo di dare un conforto e un supporto. Allora, sicuramente i problemi principali che non riguardano soltanto me in questo periodo, in questa epoca, sono la mancanza di redditività del settore. Io sono un viticoltore e negli ultimi anni i prezzi dell'uva sicuramente non riescono a sostenere i costi di produzione che i viticoltori hanno in questo settore. Diciamo che la vendita del tuo prodotto, di quanto copre le spese, il percentuale? La vendita del mio prodotto è un 20%. Addirittura? Sì. Che non è possibile che ancora c'è gente che aspetta i soldi della pronospera, delle alluvioni e dei disastri. Siete stancati? Ma da un pezzo. Io ho 30 anni e già sono rassegnato. Non si trovebbe a dire, ma è una cosa attuale. Fino ad oggi abbiamo manifestato pacificamente con le organizzazioni di cui faccio parte, ne sono onorato e li ringrazio, ringrazio tanti giovani che ci sono, ma non ce la facciamo più. E quando si tocca il pane dei figli, della storia dei nonni, dei papà e delle mamme, si arriverà a un punto molto brutto. Speriamo di no.